Ciao Pino, io lavoro per 900 euro al mese ed oggi ho pagato 490 euro di IMU, credimi Pino. Mica che cazzo c'hai la villa di Berlusconi? Quanto ha pagato 4.000 euro? 490. Ah 400, mica volevo dire che c'hai la villa di Berlusconi? Beh sono tanti eh 490. Comunque sono tanti lo stesso eh, fidati, fidati, io ho pagato 120 euro, allora vuol dire che c'hai una bella casa e allora devi pagare, devi pagare, devi pagare, lo dice Monti, però loro non pagano, però loro non pagano un cazzo, hai capito? Però se voti Silvio, te la tolgono, te la leva, la casa però, sì ma pure la vita ti levano questi, non solo la casa, è quello che hanno fatto, hanno levato la dignità le persone, capito? Persone che devono andare alla Caritas al mattina a prendere la busta con il latte e il pane, gente che ha vissuto e si è fatto un culo così e ha lavorato tutta la vita, bella merda di paese è diventato.